Assessore al Comune di Savura, sostegno di Paita, ma c'è una rottura con il Sindaco Berruti? No, non credo che ci debba essere rottura. Le primarie sono una grande manifestazione di libertà, è una scelta fondamentale, direi un tratto costitutivo del Partito Democratico. In altri tempi sceglievamo altre modalità, ci si chiudeva in una stanza, si decideva fra dirigenti di partito e magari lì c'erano delle rotture. Qui non ci può, a mio giudizio, essere rottura, ma semplicemente un ascoltare il nostro popolo, la nostra gente, i nostri elettori e far decidere liberamente a loro. Io sono un elettore del Partito Democratico e, come tanti altri, spero migliaia di elettori del Partito Democratico, esprimeranno liberamente la propria scelta nelle primarie.